Questa è una piccola cimitero, penso di film, però di un cimitero. Questa è una riserva naturale. Dove siamo? Siamo qua. Andiamo a vedere prima di vedere il gatto. No, noi praticamente siamo qua, nella prima destra. Questo è il tunnel. Ma qui c'è la chiesa? C'è la chiesa qua. Qui c'è la chiesa? Ma qui c'è la chiesa qua. Ma di fronte siamo qua. La chiesa non è bianca. Ma qui c'è sotto la croce. Guarda che sembrava una stalla. Guarda qui. Guarda. Guarda come ho fatto la fianza. Guarda qui. I qua sono cittadini della vita. Non c'è un cazzo. Quando la mano non ha disegnato, si vede che non c'è una sedia. Guarda qui. 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 Guarda qui.